Benvenuti, buonasera. Questa serata è una serata per noi molto importante. Vi ringraziamo di essere così numerosi di martedì, ma era doveroso scegliere questa data, cioè l'8 di novembre, giorno di nascita di Sardani Smaon, per dedicare al suo ricordo questa conferenza che apre una stagione che speriamo si concluderà il prossimo autunno, proprio con la riapertura della Pinacoteca. E quindi diciamo che sono tutti passi che facciamo per riavvicinarci al bene più prezioso al quale tutti stiamo pensando in questo momento. Abbiamo come centro studi il piacere di essere ospitati all'interno del Palazzo del Governatore dall'assessorato alla cultura che promuove questi eventi e che è con noi partner di un'ideazione, di proposte che vanno nella direzione non solo di leggere gli artisti, le opere e quindi il patrimonio artistico, ma anche di rileggere gli sguardi e le persone che si sono occupate di questo patrimonio, perché anche gli studi sono patrimonio e sono un patrimonio grandissimo. Allora, l'omaggio più grande che si può fare a uno studioso, che in questo caso è Sir Dennis Maon, è quello di continuare a leggere i suoi scritti, di continuare a studiarli e di continuare a fare nuovi studi. Ed è esattamente questa la missione che noi vogliamo portare avanti. La serata di questa sera poi è dedicata anche al confronto con un altro dei grandissimi storici dell'arte italiana, diciamo un maestro che per noi che abbiamo studiato a Bologna e a questo tavolo siamo almeno in tre, è sicuramente arrivato al cuore grazie poi al Magistero di Francesco Arcangeli e di coloro che hanno studiato con Francesco Arcangeli, cioè Roberto Longhi. Roberto Longhi è stato uno dei grandi innovatori degli studi di storia dell'arte italiana, riscopritore di Caravaggio, ma non solo, grandissimo interprete anche della cultura ferrarese e proprio nel suo saggio più famoso che è l'Officina Ferrarese, dà una definizione fulminante dell'arte di Guercino, usando tre aggettivi che sono veramente magistrali, temporalesco, maculato e corrusco. Questa immagine del nostro Guercino così nuvolosa è un'immagine che è rimasta molto impressa, ma che ha anche segnato in qualche modo una linea di lettura del maestro che non sempre vedeva un accordo da parte di Sir Dennis Maun. Quindi su questo confronto abbiamo proprio il piacere di sentire una riflessione di Fausto Gozzi, che oltre ad aver avuto una frequentazione con Sir Dennis, è anche un grande conoscitore degli scritti di Roberto Longhi. Prima però abbiamo un ospite speciale che è qui a testimoniare l'amicizia e la continuità della relazione con la Sir Dennis Maun Foundation, che è appunto accanto a me Francesco Gonzales, che rappresenta l'Ufficio Culturale della Diocesi di Novara e che è stato molto vicino a Sir Dennis, che l'ha affiancato in lavori di ricerca e in diversi percorsi culturali e che in questo momento rappresenta la fondazione. Quindi lo ringraziamo molto di essere venuto qui perché la sua presenza dà una continuità alle feste di compleanno, che come ricorderà sicuramente Fausto, Maun aveva piacere spesso di festeggiare proprio qui a Cento. Quindi in qualche modo è un festeggiare insieme tra amici. E anche voi che siete il nostro pubblico siete sicuramente parte di questo circuito di amicizia che continua. Ringraziamo anche coloro che sono collegati in questo momento. Molti sono i membri del comitato scientifico del centro studi che sono lontani anche all'estero, ma che ci hanno già confermato la loro presenza online. Quindi ci fa molto piacere sapere che grazie alla tecnologia possiamo essere veramente ancora di più e mantenere una rete che fa di Cento un luogo chiave per gli studi, ma non solo, anche per le relazioni interpersonali. Buon ascolto. Passo la parola a Lorenzo Lorenzini, direttore della Pinacoteca, che ci ricorderà il ruolo e la generosità di Sir Dennis. Buonasera a tutti. Parto con questo brevissimo intervento aggiustando una piccola dimenticanza da parte della nostra presidente del centro studi e cioè che Fausto Gozzi è stato per 30 anni direttore della Galleria d'Arte Moderna e della Pinacoteca Civica di Cento. Quindi ha avuto modo di accogliere non solo l'amicizia e non solo il grande sapere di Sir Dennis Maon, ma anche i doni che con grande generosità Sir Dennis ha voluto fare a questa sua città adottiva. Comincio dall'ultimo. che è una donazione piuttosto consistente di 60.000 euro che la fondazione Sir Dennis Maon ha elargito per la ricostruzione della Pinacoteca Civica di Cento pochissimo tempo dopo l'evento funesto del terremoto del 2012. Ecco, questo sta a significare che la vicinanza dello studioso e della fondazione che tuttora dà continuità al grande magistero di Sir Dennis non si è mai interrotto. È ancora vivo, è stato vivo nel momento del bisogno. Andando a ritroso, un altro esempio della grande generosità di Sir Dennis è rappresentato dal deposito effettuato tra il 2009, se non ricordo male, e il 2012 di un dipinto di Caravaggio della collezione appunto della fondazione che è rimasto appunto in Pinacoteca per quei due o tre anni come in Pinacoteca a Cento ed è stato un evento molto importante perché ospitare un Caravaggio nelle nostre sale ha significato veramente molto. Ma prima ancora la generosità di Sir Dennis si è manifestata attraverso il dono di un dipinto un dipinto che adesso è in corso di studio un dipinto che nel 2003 lui aveva riconosciuto come Guercino e che attualmente abbiamo nella nostra Pinacoteca e che rappresenta Rinaldo Corradino a cavallo di un mulo un dipinto che lui ha acquistato con un'attribuzione a Ludovico Carracci l'ha assegnato a Guercino e l'ha donato alla Pinacoteca di Cento ecco in seguito questo quadro ha avuto varie vicende attributive e sembra che ci si possa fermare non tanto su Guercino ma piuttosto su Guidoreni in una fase molto precoce questo non cambia affatto il significato di questo dono e il fatto di oscillare comunque in un ambiente molto specifico che è quello della Bologna dei primi decenni del Seicento del primo o secondo decennio del Seicento ha il significato di sottolineare quanto questo ambiente fosse in qualche modo coeso e quanto i rapporti tra i pittori dell'epoca Guercino, Ludovico Carracci e Guidoreni fosse importante io non c'ero, c'era Fausto Gozzi ad accogliere questi doni quindi insomma è importante sottolineare davvero la continuità che viene rappresentata su questo tavolo questa sera e che è una continuità appunto con una radice molto lontana e comune che è Sir Dennis Maun fin dai primi studi che ha compiuto a Cento intorno agli anni 20, 21, cos'era? 30? 34, comunque insomma molto tempo fa c'è proprio un filo che ci lega ancora a doppia mandata su questo argomento passo la parola a Francesco Gonzales che ci racconterà un altro pezzettino dei legami di Sir Dennis con Cento cari amici di Cento, buonasera sono qui per portare i saluti della Sir Dennis Maun Foundation e per ricordare Sir Dennis Maun il giorno del suo compleanno nella città del Guercino uno dei luoghi a lui più cari come sapete Sir Dennis Maun è stato uno dei più illustri storici dell'arte e collezionisti del XX secolo e un determinato filantropo la Sir Dennis Maun Foundation è stata creata da Sir Dennis durante la sua vita e mira a continuare la sua opera filantropica e la sua appassionata promozione di giovani studiosi ed artisti fra le varie attività la fondazione assegna due premi annuali per giovani studiosi ed artisti il Sir Dennis Maun Essay Prize e un premio di disegno alla Royal Drawing School intitolato Maun Award nel 2020 è stato istituito un nuovo premio il Sir Dennis Maun Sculptural Project Grant in collaborazione col City and Guilds of London Art School un'altra iniziativa per onorare la sua memoria io ho avuto la fortuna di conoscere Sir Dennis nel 2006 in occasione del ritrovamento del dipinto raffigurante San Francesco che riceve le stimmate di Guercino un tempo nella chiesa di Campello Monti in provincia di Verbania quindi nel mio territorio ma in origine poco lontano da qui si trovava infatti a San Giovanni in Persiceto è stato l'inizio di un'amicizia che è durata per tutti gli ultimi anni della sua vita da lui ho cercato di imparare il più possibile anche negli ultimi anni quando la parola la veniva meno ma mai lo sguardo sempre pronto ad animarsi davanti a un capolavoro è proprio l'amore di Sir Dennis verso le nuove generazioni che è il punto di forza della sua vita come benefattore quanti storici dell'arte sono stati toccati dal suo sorriso, dai suoi consigli dai suoi arguti commenti in un italiano antico un italiano che aveva appreso anche attraverso la lettura dei libretti d'opera che frequentava appunto a Londra al Covent Garden insieme alla sua amatissima madre Lady Ellis le sue volontà ultime quelli di destinare la sua collezione ai più importanti musei del mondo testimoniano la convinzione che la condivisione e la conoscenza aperta a tutti sono l'unica strada percorribile in questo solco si inserisce il Sir Dennis Mahon Essay Prize e vorrei con voi questa sera ripercorrere alcune tappe che hanno visto cento protagonista il primo episodio risale al 2012 e qui vedete una immagine del dottor Edward Payne che presenta il suo saggio dedicato ai disegni del Guercino e di Ribera presso proprio la Pinacoteca di Cento e nell'immagine a fianco la stessa presentazione invece al Courtauld Institute of Art di Londra con una piccola appunto rappresentanza di centesi la seconda occasione appunto riguarda invece il 2014 qui ci troviamo a Cambridge la vincitrice Giulia Vasquez vince il premio con un saggio dedicato a Velasquez e anche qui appunto Cento è protagonista perché Faust era venuto appunto a trovarci e ricorda questa immagine quella bellissima giornata e poi l'ultima occasione nel 2016 dove Amanda Hilliam presenta il suo saggio dedicato a Filippo Baldinucci e ai disegni di Ludovico Cigoli proprio qui a Cento una rappresentanza appunto della fondazione Mahon le ultime immagini che vorrei lasciarvi come un ricordo di momenti felici sono alcuni scatti relativi all'ultima visita di Sir Dennis a Cento nel 2008 in occasione dei festeggiamenti del suo compleanno sono immagini che riportano alla mente la sua risata il suo sguardo la sua simpatia tutti noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e abbiamo sicuramente avuto il privilegio di ricevere un dono prezioso non materiale ma oserei dire spirituale la consapevolezza cioè che il nostro lavoro di storici dell'arte sia solo un mezzo un mezzo per creare ponti per comunicare la bellezza e l'arte e per dare il nostro piccolo contributo alla costruzione di una società migliore grazie voglio ringraziare il centro studi il comune di Cento gli amici che sono in sala e quelli che ci stanno seguendo in streaming che saluto amichevolmente le opinioni discordanti di Roberto Longhi e Dennis Maun su Guercino le ho già trattate in un convegno su Longhi organizzato dalla Fondazione Longhi di Firenze e da Joanna Kilian oggi vice direttrice del Museo Nazionale di Varsavia un convegno che si è tenuto all'inizio di quest'anno nel Castello Reale di Varsavia al quale abbiamo partecipato proprio con Francesco Gonzales Daniele Benati ed altri la relazione che presento questa sera è dunque una versione ampliata di quella prima conferenza polacca per la mia generazione è stata una fortuna aver goduto degli scritti di Roberto Longhi perché è davvero un godimento leggere e rileggere la sua prosa e ancora più importante per me è stato incontrare Dennis Maun nel 1982 quando avevo 29 anni e lui ne aveva 72 fu Prisco Bagni il regista di questo incontro Prisco in quel momento stava preparando il suo libro su Casa Pannini sponsorizzato dalla Cassa di Risparmio di Cento presidente l'amico Eugenio Gilli e il comune di Cento sindaco Giuseppe Albertini che vedete qua alla presenza del ministro dei beni culturali il democristiano Vincenzo Scotti e di Giulio Carlo Argan esponente storico del partito comunista che andai a prendere in macchina a Firenze consegnava a Maun la cittadinanza onoraria e da quel momento si può dire che iniziò a per cento una collaborazione molto fruttuosa che ha portato tante belle cose nella nostra città e che continua ancora oggi come abbiamo visto con la fondazione Maun di Londra guidata dalla presidente avvocato Susan Marriott e dalla dottoressa Orietta Benocci Adams che saluto in streaming da quel 1982 sono tante le giornate trascorse con Dennis che veniva a Bologna anche due volte all'anno e ogni volta chiedeva sempre di fare una scappatina a cento e sempre per rivedere quei quadri che conosceva a memoria veniva a trovarli per vedere come stavano come fossero dei vecchi amici da salutare ma è evidente che Renazzo, Corporeno e Cento rappresentavano per Maun l'esordio del Guercino e con lui anche la sua giovinezza ed io come si è visto anche nella foto che ci ha mostrato Gonzales avevo spesso mansioni di autista e di portaborse Maun aveva sempre dei libri pesanti da portare dietro ma intanto ascoltavo e imparavo un esempio che per me fu molto importante fu la fase organizzativa della mostra che si fece a Bologna e a Cento nel 1991 dalle riunioni nell'ufficio di Andrea Emiliani a Bologna con le fotografie tutte sul tavolone in fila fino al controllo puntiglioso dei photocolor per il catalogo verificati da Maun uno per uno davanti ai quadri Maun mi dettava e io scrivevo sui cromalin col penarello meno rosso troppo giallo meno contrasto eccetera per una questione di cronologia inizio con Roberto Longhi che nasce ad Alba in provincia di Cuneo nel 1890 quindi venti anni prima di Maun e i primi scritti di Longhi sono del 1909 1910 che è anche l'anno di nascita di Maun quando Longhi ha già vent'anni Maun nasce un anno prima della laurea che Longhi prese a Torino nel 1911 con la tesi su Caravaggio e qui lo vediamo com'era negli anni venti in un autoritratto con la cravatta a farfalla sì proprio un autoritratto perché Longhi si dilettava anche nel disegno che lui utilizzava per capire i quadri che stava studiando fra la laurea di Longhi 1911 e il suo primo saggio dedicato a Guercino nel 1926 intitolato Tangenze Caravaggesche nel Guercino passano 15 anni e Longhi in questo periodo ha già prodotto tanti e tanti studi prima di interessarsi a Guercino riscoprendo pittori interessantissimi nell'ambito degli artisti caravaggeschi che allora nessuno conosceva come Borgianni Saraceni Gentileschi padre e figlia tutti i pittori che oggi nelle aste internazionali costano anche di più di Guercino e da subito Longhi si impone anche per il suo stile scrittorio che è del tutto inconfondibile e che non trova paragone i libri di Longhi anche se corposi e fisicamente pesanti io li ho letti quasi tutti e ricordo che i professori non si stancavano di ricordarci che Longhi non è solo uno storico dell'arte ma è soprattutto uno scrittore uno scrittore fra i più grandi del novecento come è stato detto in altre occasioni il mestiere dello storico dell'arte è più difficile di quello dello storico della letteratura perché allo storico dell'arte deve usare le parole per comunicare oggetti fisici come i quadri un quadro non è una poesia e non è neppure una sinfonia disse una volta Eugenio Ricomini a una conferenza disse Ricomini posso leggere al telefono l'infinito di Leopardi o anche un canto della Divina Commedia e chi ascolta dall'altra parte del filo non perderà quasi nulla del suo fascino ma se devo descrivere al telefono l'assunta di Tiziano che si trova i frari a Venezia è impossibile senza averla davanti per questo si può dire che lo storico dell'arte ha una complicazione in più rispetto agli altri storici ecco perché è bello leggere Longhi perché ha una straordinaria capacità scrittoria un vocabolario ricco di parole inattese che è difficile da tradurre in qualsiasi lingua perché Longhi utilizza spesso degli idiomi che vengono anche dalla tradizione popolare e che sono inventati da lui per l'occasione naturalmente il problema della traduzione non esiste con Mahon perché il suo metodo tipicamente anglosassone essenziale e rigidamente storiografico e filologico evita di proposito l'avvicinamento alla prosa ricordo che con Prisco Bagni quando abbiamo collaborato all'estesura delle schede in catalogo della mostra del 91 ci siamo attenuti strettamente alla storiografia riducendo al minimo anche i commenti iconografici quando Longhi nel 1926 pubblica Tangenze caravaggesche nel Guercino Mahon non si occupava ancora di Guercino e aveva solo 16 anni era figlio unico e stava frequentando a Etton nel Berkshire il collegio più esclusivo della Gran Bretagna una scuola privata dove hanno studiato anche il principe William sono quelli della famosa birra irlandese suo padre John Fitzgerald Mahon 1853 1942 era figlio di un barone irlandese mentre la madre Lady Alice Evelyn Brown 1877 1970 sposata nel 1897 e qui vediamo una foto di quel giorno era figlia del marchese di Sligo quindi un'aristocratica guardate che bella che era la mamma entrambi provenivano dall'Irlanda del Nord protestante si può dire quindi che Mahon avesse un po' di nobiltà nel sangue e senza essere senza essere ultramilionario naturalmente non aveva nessun problema economico la sua famiglia viveva a Londra a Chelsea vicino a Sloan Square al 33 di Cadogan Square una di quelle caratteristiche case inglesi a pietravista di sei piani e di 1350 metri quadri dove Mahon è nato e vissuto per un secolo dopo la laurea in storia conseguita a Oxford Mahon continua gli studi universitari all'Ashmole al Museum sempre a Oxford sotto la guida di Kenneth Clark e fu lui a trasmettergli il primo interesse per la pittura italiana del 600 a 23 anni dopo la laurea Mahon frequenta il Curtall Institute a Londra per seguire le lezioni sulla pittura barocca italiana di Nicolaus Pevstner e fu proprio lui a suggerigli il nome del maestro di Cento per la sua tesi di laurea di perfezionamento perché non fare guercino disse Pevstner a Mahon e siamo nel 1932 quando Dennis ha 22 anni ma dobbiamo tornare a Longhi perché il suo saggio tangenze caravaggesche nel guercino venne pubblicato nel 1926 sulla rivista americana Art in America e dobbiamo sapere che in quegli anni guercino era comunque un pittore più conosciuto dei pittori caravaggeschi che Longhi stava riscoprendo in quel momento e di guercino venivano apprezzati maggiormente i quadri tardi cioè quei quadri che hanno i colori più chiari e le tonalità pastello che a Longhi interessavano meno perché li riteneva un pochino ripetitivi e certamente meno potenti di quadri giovanili prima di vedere i quadri che Longhi commenta vi devo dire che in quegli anni le riproduzioni fotografiche nei libri d'arte erano tutte in bianco e nero e quindi diversi quadri che Longhi pubblica di collezioni private li vedremo come sono nei suoi libri cioè in bianco e nero Longhi inizia il suo saggio Tangenze Caravaggesche nel Guercino citando due biografi coevi del Guercino Giovanni Battista Passeri e Carlo Cesare Malvasia e Longhi ci ricorda che entrambi scrivono della formazione di Guercino e parlano anche di Caravaggio e dell'influenza che ebbe sul pittore di Cento naturalmente Longhi riconosce come primaria la matrice dei Caracci nella formazione del Guercino Ludovico in modo particolare con la sua famosa Pala di Cento che Guercino chiamava Caraccina ma tuttavia Longhi vede nel pittore centese anche la convivenza di impulsi ora caravaggeschi ora venezianeggianti come dice lui che in quel momento preciso fra il 1616 e il 1620 fanno del Guercino un pittore del tutto unico Longhi prosegue questa è una foto in cui stiamo guardando un dipinto di Cracovia nel 91 questo è il giorno della laurea di Longhi di Maon Longhi prosegue e mostra alcuni quadri comincia con questo lotte le figlie dell'Escorial di cui vediamo due bei particolari e prosegue con Mars questa bellissima in una collezione privata di Cento e un'altra altrettanto bella questa nel Museo Nazionale di Varsavia di cui questo è un particolare quindi un quadro di cui ce ne sono tre repliche Longhi cita anche la Cattedra di San Pietro della Pinacoteca di Cento un'opera che ricorda nella composizione la Pala Pesaro di Tiziano e infatti Longhi vede nella Cattedra di San Pietro che i toni decisamente veneziani che vediamo nella parte alta convivono con particolari fortemente naturalistici come sono i piedi di San Pietro che per Longhi richiamano senza dubbio quelli dipinti da Caravaggio nella Madonna dei Pellegrini qui li vedete quelli sopra è Caravaggio e quello sotto è Guercino questo è quello che dice Longhi un'altra tela dove Longhi vede questo dialogo aperto con Caravaggio è Ermigna soccorre Tancredi ferito una storia d'amore molto commovente un quadro sublime che probabilmente venne anche replicato da Guercino una pratica come abbiamo visto nell'estasi di San Francesco che in taluni casi il maestro esercitava e infatti qui vi sto mostrando una replica non la versione più nota della Galleria Doria Panfili questa che vediamo è una replica di collezione privata di Rimini Longhi prosegue con altre opere giovanili e sottolinea i contrasti di luce che sono sempre più intensi in Guercino e ci mostra due versioni della cattura di Cristo tanto per rimanere nel campo delle repliche la prima questa del museo di questa di una collezione privata romana opera di macchia più larga citazione di Longhi appoggiata a forme più naturali e cioè più caravagesche di questa abbiamo solo la foto che pubblica Longhi e quindi non abbiamo la foto coloro è evidente che quando il pittore è già a Roma dove Guercino rimarrà due anni dal 21 al 23 per forza sorge la questione del Caravaggio e Longhi mostra questo quadro la Maddalena con Angeli della Pinacoteca Vaticana un quadro che ha una struttura luministica citazione di Longhi più vasta e più calma Longhi prosegue col martirio di San Pietro delle estense di Modena un'opera che contiene particolari citazione di Longhi tanto naturali da non dispiacere né entrambe autografe del San Girolamo che sigilla una lettera questa che vediamo di collezione Patrizzi di Roma e questa della Galleria Barberini di Roma vedete poi prosegue Longhi parlandoci della risurrezione di Lazaro del Louvre del Sansone catturato dai figli Metropolitan Museum di New York a conclusione del periodo romano all'insegna del caravaggismo Longhi sfodera il suo asso nella manica la Santa Petronilla un'opera alta quasi 8 metri fece per la cattedra della Pinacoteca di Cento Longhi riconosce in questo quadro anche qui una matrice veneziana nella parte alta della gigantesca tela però sostiene che Guercino virgolette parole di Longhi ha dato il meglio nella parte bassa dove anche la scelta del momento naturalistico del seppellimento effettivo è un tratto tipicamente lo spirito del caravaggio tocca appunto in questi giorni chiuse le virgolette della citazione di Longhi questo è un particolare vedete della parte sotto potentissima cino di questo Davide con la testa di Golia che è un inedito di collezione privata che oggi noi non conosciamo per cui dobbiamo accontentarci solo di questa brutta fotografia in bianco e nero pubblicata da Longhi nel 26 e Longhi a supporto di questa sua attribuzione confronta questo Davide con una figura del martirio di San Pietro di Modena vedete e anche con il giovane seppellitore che abbiamo visto nella Santa Petronilla un anno dopo la tesi di perfezionamento nel 1934 quando aveva 24 anni Mahon comperò il suo primo guercino questo Giacobbe che benedice i figli di Giuseppe un quadro grande che Denis a Saint Germain De Pre pagandolo solo 120 sterline e due anni dopo acquistò il suo secondo guercino questo e lì ha nutrito dai corvi Berini che lo teneva nel solaio nello storico palazzo che oggi è la sede del Museo Nazionale in quegli anni Mahon frequentò a Londra il Warburg Institute dove conobbe Otto Kurz che si era appena laureato con una tesi su Guidoreni e con Kurz nel 1935 Mahon iniziò a viaggiare all'Europa e la Russia per studiare Guidoreni e guercino i due giovani Kurz 27enne e Mahon 25enne viaggiavano con due bauli uno per gli effetti personali e l'altro con i libri fra cui anche l'edizione originale del 1678 della felsina pittrice di Malvasia Mahon mi raccontò che fu proprio questa biblioteca da viaggio a procurare l'unico problema i due giovani che incautamente avevano incartato i libri con i fogli del giornale Times per proteggerli e così al confine russo l'ufficiale di Dogana confiscò tutti i fogli dei giornali con cui erano rilegati i libri sospettando un pericolo di propaganda le ricerche di Mahon e di Kurz in Italia si concentrarono fra Bologna Ferrara e Cento e con loro c'è sempre un fotografo dello studio Villani di Bologna che aveva una pesante macchina fotografica di legno la cui preziosità abbiamo visto anche di recente con la restauratrice Licia Tasini che è con noi stasera nell'intervento agli affreschi di Guercini in casa provenzale ora Benazzi col ritorno a Londra Kurz pubblicò un libro su Guido Reni che fu la base per la mostra su Reni che si fece a Bologna nel dopoguerra mentre Maon pubblicò il suo primo saggio sul giovane Guercino che usì in due puntate nel 1937 sulla rivista Barlington Magazine ma il primo libro di Maon dedicato a Guercino Studi in 600 Art and Theory Studi nell'arte del 600 e teoria venne pubblicato a Londra nel 1947 dal Warburg Institute questo prezioso e ancora molto valido volume non solo è uno studio illuminante sul Guercino e soprattutto sulla sua evoluzione stilistica ma è anche una lezione di metodo Maon esamina alcuni quadri del Guercino della prima maniera e li confronta con quadri sempre di Guercino dell'ultimo periodo e deve riconoscere che sono tante le diversità stilistiche pittoriche da sembrare addirittura quadri dipinti da due pittori diversi cosa era successo al nostro Guercino perché questo cambiamento così evidente Maon in questo fondamentale libro del 47 ci dà un esempio di filologia e storiografia strepitosi raccoglie e pubblica dei documenti sul gusto e sulle teorie artistiche del 600 e vede che negli anni che Guercino è a Roma 1621 1623 Caravaggio era un pittore che stava andando giù di moda fortemente criticato per i suoi effetti di luce e ombra troppo forti e soprattutto per i suoi modelli volgari che utilizzava nei suoi quadri inoltre Maon pubblicando sempre documenti dell'epoca dimostra che il gusto classico idealizzato contrario al caravaggismo molto prima della teorizzazione di Gian Pietro Bellori in Italia era già sostenuto in quegli anni da Monsignor Giovanni Battista Gucchi che era segretario di Stato del Papa amico dei pittori e di Domenichino in particolare e molto influente nella corte papale della famiglia Ludovisi cioè proprio quell'ambiente dove il nostro Guercino si trovava a pitturare in quegli anni ecco l'analisi scientifica di Maon ancora oggi fondamentale che spiega uno dei motivi del cambiamento stilistico del nostro amato Guercino intanto alla fine degli anni 60 la collezione di Maon aveva raggiunto il numero di 79 quadri che erano molto che erano tutti appesi ai muri della sua casa al 33 di Cadogan Square 79 quadri la metà della sua collezione era composta da quadri bolognesi 11 di Guercino 4 Domenichino 4 Guidoreni 3 Giuseppe Maria Crespi 4 Caracci e altri pittori meno noti ma comunque sempre bolognesi in merito al rapporto che Maon aveva con il mondo delle aste e degli antiquari è stato più volte detto che Maon con i suoi quadri non fece mai del business e solo alla morte di Lady Alice nel 1970 per pagare le tasse di successione alcuni milioni di sterline Maon vendette un suo Annibale Caracci al Metropolitan Museum di New York e un Guercino alla Gemalde di Berlino mentre un Poussin Maon lo vendette al collezionista Daniel Wilderstein di New York il cui ricavato però andò per aiutare il museo di Birmingham nell'acquisto di un dipinto di Giovanni Bellini io sono a conoscenza di questi tre quadri venduti e basta solo per dare l'idea della scarsa considerazione in cui era tenuta la pittura barocca in quegli anni negli anni trenta anche quaranta Maon raccontò che il suo secondo Guercino quello comperato dalla famiglia Barberini nel trentasei che raffigura Elia nutrito dai corvi questo che stiamo vedendo considerata la dimensione un quadro di due metri e mezzo inadatta alla sua casa londinese lo teneva infatti nell'ingresso Maon lo offrì a Kenneth Clark che era direttore della National Gallery in quegli anni allo stesso prezzo che lo aveva acquistato 215 sterline e la risposta di Clark sapete qual era qual è stata che non non osava neppure presentarlo agli amministratori della National Gallery per evitare le loro risate e anche nel 45 quando Maon acquistò all'asta per 85 sterline il ratto d'Europa commissionato dal re di Polonia a Guidoreni è un quadro che oggi è nella sala degli italiani della National Gallery uno dei quadri più belli della National Gallery il suo unico concorrente nell'acquisto era interessato solo alla ricca cornice del quadro che poi Maon cedette la cornice per abbassare poi il prezzo dell'acquisto del quadro Maon muore a 100 anni compiuti la mattina del 24 aprile del 2011 giorno di Pasqua dopo aver fatto colazione vestito del suo solito doppio petto pochi minuti prima di uscire di casa per fare il suo solito giretto in compagnia dell'amata Orietta Benocci Adam il suo testamento Maon lo aveva già scritto nel 1980 quando aveva 70 anni e destinava già i suoi quadri a diverse istituzioni il gruppo più consistente andò alla National Gallery di Londra altri alla National Gallery di Edimburgo altri alla Small & Museum di Oxford dove ci sono anche i suoi disegni più di 60 sono di Guercino a Dublino la National Gallery dell'Irlanda al Fitzwilliam Museum di Cambridge al City Museum di Birmingham al Temple Newsam Museum di Leeds alla Pinacoteca di Bologna e un dipinto come ha ricordato prima Lorenzo alla Pinacoteca Civica di Cento attribuito a Guercino un'opera interessante che è stata però attribuita oggi a Guidoreni e verrà pubblicata presto da Daniele Benati che ne ha riconosciuta la provenienza dalla collezione del Cardinal Borghese possiamo dire che Mahon si è occupato anche di politica dell'arte infatti dal 1957 al 64 e dal 66 al 73 Mahon è stato trusty cioè amministratore della National Gallery e ci sarebbero storie bellissime da raccontare perché in quegli anni anche lo scultore Henry Moore era amministratore della National Gallery e Mahon lo chiamava diverse volte al telefono per chiedergli il suo appoggio nelle riunioni soprattutto quando all'ordine del giorno c'erano l'acquisto di dipinti per il museo con l'aiuto di Adolfo Venturi e di Bernard Berenson nel 1933 Nino Barbantini organizzò a Ferrara l'esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento una mostra allestita a Palazzo dei Diamanti che Longhi visitò più volte scrivendone una recensione che divenne un volume più grosso del catalogo di centinaia di pagine intitolato Officina Ferrarese ricordata prima dalla Valeria Longhi cambiò diverse attribuzioni e criticò gli organizzatori di essersi fermati alla morte di Dosso Dossi nel 1542 citazione di Longhi qui si chiude la mostra ma a questa data una pittura specificatamente ferrarese non era ancora morta Giovi allora a ricordare che da Ferrara a Modena la strada passa per cento città del Guercino e l'Aurora Ludovisi è di nuovo un tonante della vecchia Ferrara gli egregi ordinatori della mostra indimenticabile avrebbero potuto spingere qualche punta fin qua e alludeva a Guercino dove l'aria sa buia appena avete sentito la bellezza della prosa di Longhi probabilmente grazie anche officina ferrarese Longhi nel 1934 vince il concorso per la cateta di storia dell'arte medievale e moderna all'università di Bologna e il primo dicembre tiene la prolusione d'apertura dell'anno accademico sulla pittura bolognese senza proiezioni e di fronte al corpo accademico e agli allievi Longhi aprì la conferenza dicendo che la pittura bolognese è l'ultimo lazzaro lasciato nella tomba e cominciò parlando dei miniatori citati da Dante nel prugatorio o derisi da Gubbio franco bolognese e proseguì con Vitale da Bologna Simone dei Crocifissi Marco Zoppo fino ai caracci che finalmente Longhi colloca nel loro ruolo proto-barocco di apertura al 600 Longhi ammette che i caracci sono pittori difficili da capire perché in loro c'è tutto dice c'è Raffaello c'è Tiziano c'è Correggio ma parla dei caracci come mai era stato fatto prima Longhi tenne la cattedra a Bologna fino al 1949 formando specialisti del settore come Francesco Arcangeli Mina Gregori e Carlo Volpe ma formò anche celebri registi e scrittori come Giorgio Bassani Attilio Bertolucci e Pierpaolo Pasolini nel dopoguerra Mahon strinse amicizia a Bologna con Cesare Gnudi soprintendente e anche con i suoi giovani collaboratori Giancarlo Cavalli Andrea Emiliani Francesco Arcangeli Maurizio Calvesi Eugenio Ricomini e nacque Romostre memorabili Guidoreni nel 1954 grazie al libro di Otto Kurz Caracci nel 1956 l'ideale classico del 600 nel 1962 Maun ricorda in questo viaggio del 62 le casse coi quadri erano state caricate su un vecchio aereo cargo a elica senza riscaldamento e Maun in doppio petto e cravatta e Michael Kitson in fredoliti erano gli accompagnatori dei quadri provenienti da Londra e poi finalmente è arrivata la mostra Guercino nel 68 Maun fu curatore unico e possiamo dire che non tenne particolarmente in conto le opinioni di Longhi sul caravaggismo del Guercino non tenne e anche Cesare Gnudi nella bellissima prefazione al catalogo concorda con Maun sul fatto che questo potente naturalismo giovanile di Guercino non deve essere collegato per forza a Caravaggio primo perché il confronto diretto con Caravaggio Guercino lo ebbe solo nel 1621 secondo perché in quegli anni e siamo fra il 1616 e il 1620 il caravaggismo era già diffuso in Italia e Guercino era un pittore già del tutto formato indipendentemente da Caravaggio e se guardiamo bene la luce che Guercino utilizza nei suoi quadri continua a Gnudi nella prefazione al catalogo del 68 la luce di Guercino sentite che bello è sempre mobile una luce centrifuga una luce pronta ad aprirsi e a dilatarsi oltre lo spazio del quadro mentre la luce che dipinge Caravaggio isola le figure e chiude e chiude sempre lo spazio delle sue opere Maon sa bene che Guercino ha visto Caravaggio nel 1621 e scrive che se mai ci fu questo confronto il caravaggismo fu comunque l'elemento perdente Longhi visitò la mostra Guercino nel 1968 e scrisse subito una recensione su Paragone un articolo intitolato Spuntature alla mostra bolognese del Guercino sono solo sei pagine che però ci fanno capire un risentimento verso Maon che Longhi neppure chiama per nome nell'articolo inizia l'articolo attaccando subito il curatore tra virgolette Longhi dice studioso a tutti noto per la sua dedizione incondizionata al pittore centese l'operazione non poteva riuscire meno bene di così prosegue ricordando che Guercino chiamava Car Zinna la Madonna e Santi di Ludovico Caracci della Pinacoteca di Cento e Longhi corregge il catalogatore per il quale Car Zinna significa Carabaglia quando invece Car Zinna secondo Longhi significa Carapoppa o Caramammella per dire che Guercino ha bevuto il latte di Ludovico Caracci già da questa puntualizzazione sul significato della parola Zinna si capisse subito che Longhi quel giorno si è alzato male e si vuole mettere di traverso nel gruppo dei dipinti giovanili Longhi ne approva alcuni e ne contesta altri accetta San Carlo in preghiera Madonna e Santi con Pancrazio della chiesa parrucchiale di Renazzo e accetta anche il matrimonio mistico di Santa Caterina e contesta l'attribuzione contesta anche il delizioso che sappiamo essere invece un capolavoro di Guercino contesta il delizioso miracolo di San Carlo tra virgolette un dipinto alquanto più remoto e appartenente a chi possa aver instradato il Guercino poco più che adolescente e di conseguenza Longhi contesta anche l'attribuzione del disegno del Louvre un foglio bellissimo che invece era stato esposto da Mao proprio a supporto della sua attribuzione vedete la figura Longhi prosegue le picconate e in merito alla pala Sant'Alberto Carmelitano più probabilmente San Simone Stocco oggi della Pinacoteca di Cento Longhi lamenta che oltre ai due disegni esposti preparatori alla pala quello di Chatsworth questo è e vediamoli questo è quello di Chatsworth e questo è quello di Longhi il fatto che le figure siano girate destra e sinistra è una consuetudine per Guercino succede spessissimo che Guercino disegna le figure destra e sinistra per provare come sta meglio la composizione sulla serie dei quattro evangelisti della Pinacoteca di Dresda secondo Longhi solo il San Matteo San Matteo in alto sarebbe del periodo romano mentre gli altri tre sarebbero del 1616 mentre invece per Mahon e anche per gli studiosi successivi oggi è unanimamente accolto la serie è omogenea non ci sono motivi di ritenere che uno di queste figure sia stata eseguita più avanti e tutte e quattro le tele per Mahon sono del 1615 qui la vedete poi Longhi contesta anche l'adattazione della Madonna del Passero questa della collezione Mahon un'opera incantevole che oggi è nella Pinacoteca di Bologna che per Longhi non quindi 1621 quando la tangenza caravaggesca si fa notoriamente più forte virgolettato di Longhi anche anche l'adattazione di questo meraviglioso paesaggio al chiaro di luna di Stoccolma casa Pannini come sostiene Mahon così pure il paesaggio con donne al bagno non può essere del 1615 ma di alcuni anni per chi non è addentro a questo problematiche è bene che vi dica subito che il tempo e gli studi successivi alla mostra del 68 hanno dato ragione a Mahon quasi sempre riconfermando così la correttezza delle sue datazioni proseguiamo con questa testa di vecchio di collezione Mahon un'opera che Longhi approvava ma che giudicava meno bella di un'altra versione questa dello stesso soggetto che si trova nel museo dell'Hermitage e ne pubblica quindi su paragone la foto in bianco e nero che vediamo questa è quella della collezione Mahon questa è quella dell'Hermitage Mahon conosceva benissimo il dipinto dell'Hermitage perché lo aveva tenuto nelle sue mani lo aveva studiato e lo considerava una coppia di bottega e infatti è catalogato così anche oggi nel museo russo Longhi pubblica anche il bellissimo re Davide questo che suona il violino del museo di Rouen una tela che non era stata presa alla mostra del 68 perché è ritenuta da Mahon opera della bottega dopo il restauro ecco la differenza prima e dopo il restauro Mahon ha poi accolto senza riserve dopo che il dipinto è stato restaurato prima non si poteva dire Longhi va avanti con questo breve articolo e insiste sul caravaggismo di Guercino con la cattura di Cristo di Cambridge questa e l'incredulità di San Tommaso della National Gallery questa e Longhi ha questi due quadri che abbiamo altri quadri che per lui non sono solo autografe ma sono ancora più caravaggesche le due repliche aggiunte da Longhi questa si tratta di questa cattura di Cristo di collezione privata ripubblica su paragone a colori virgolettato parole di Longhi sperando forse di far cambiare il giudizio sfavorevole del catalogatore di Bologna Mahon in questo caso non solo non cambierà opinione e giustamente secondo gli studi recenti e nel catalogo del 68 aveva già classificato come coppie di bottega coppie di bottega non solo questa cattura di Cristo di collezione privata romana ma anche questa incredulità di San Tommaso della pinacoteca vaticana un'opera che invece Longhi riteneva replica autografa per vostra informazione vi devo dire che per la cattura di Cristo di collezione privata romana gli studi sono tutti allineati col parere di Longhi e quindi ritengo un autografo solo l'esemplare di Cambridge mentre invece per l'incredulità di San Tommaso della pinacoteca vaticana questo sono diversi gli studiosi che oggi la ritengono replica autografa e non copia di bottega e infatti come autografo è esposta nel museo vaticano Longhi va avanti e prosegue con questo San Giovanni Battista in carcere visitato da Salomè ancora un quadro di collezione Mahon al quale Longhi aggiunge ancora una replica di collezione privata che lui la pubblica in bianco e nero però recentemente è stata venduta in asta e quindi abbiamo la foto anche a colori del quadro che Longhi pubblica in bianco e nero quindi questo è quello di Mahon e questo è quello che pubblica Longhi Longhi ritiene questa versione di collezione privata ancora più bella di quella di Mahon e su questo quadro proprio si capisce che Longhi ha qualcosa che lo disturba quando si parla di Mahon che Mahon ha scritto nel catalogo che per essere sicuro di aver capito bene questo soggetto perché qui non è un soggetto semplice c'è Cristo e c'è una persona di là dalle sbarre che osserva Cristo non è così immediata il soggetto Mahon dice che per essere sicuro aveva chiesto aiuto a Erwin Panofsky mentre invece nel saggio del 26 era già stato identificato da Longhi senza ricorre a un iconologo del calibro di Panofsky sembra polemica proprio fine a se stessa questa qua di dire ho capito prima io il soggetto di quell'altro Longhi batte ancora il chiodo su Caravaggio e mostra la crocifissione di Reggio Emilia alla Ghiara un capolavoro del guercino caravaggesco dice Longhi con un ricordo evidente dei piedi sporchi dei pellegrini di Loreto vedete nella figura del San Giovanni Evangelista inginocchiato che è la dalmatica fulgente del santo a guante smunte a guance smunte e a terra i cavetti nuovi di trinca della graticola pronta per il martirio prima di concludere il suo intervento sulla mostra del guercino Longhi pubblica due inediti Cristo flagellato questo e Cristo trascinato ai tribunali due opere che anche Caravaggio stesso avrebbe dichiarato buone dice Longhi è triste continua che due quadri di così alta qualità non siano stati chiesti per la mostra e il parere di Longhi si trova nel catalogo del 68 dove proprio questi due quadri già pubblicati da Longhi nel 26 e ripubblicati ora su Paragonia la bottega e quindi per questo non sono alla mostra per noi naturalmente non è possibile farci una nostra opinione perché questi due quadri oggi sono conosciuti solo attraverso queste due fotografie in bianco e nero sto finendo la recensione si conclude con il commento di questo San Paolo che oggi è nella fondazione sorgente di Roma e Longhi contesta a Maon il collegamento di questo quadro con quello di soggetto uguale che è citato nel libro dei conti che è la data 20 febbraio 1644 è la datazione che fa Maon 1644 e Longhi trova usa questo termine risibile che lo spadone possa essere opera del fratello del Guercino come Maon scrisse nel catalogo questi particolari di natura morta spesso dovrebbero essere opera del fratello di Guercino Longhi invece collega questa figura di San Paolo con la Madonna in trone Santi che è nella Certosa di Pavia dove appunto si vede in basso a destra la figura intera e qui Longhi è senza freni dice virgolettato se la palla del 1641 com'è possibile ricavarne la replica di una figura tre anni dopo senza avere più davanti agli occhi il modello di Pavia e poi ripetuta così fedelmente soprattutto nell'elsa della spada per di più affidandola al fratello che evidentemente anche lui ha una memoria di ferro un po' fino a se stesse però fanno capire il personaggio ecco questo è Longhi tanto poetico quanto tagliente e anche molto polemico quando vuole esserlo concludendo ricordo che a un anno dalla morte di Longhi nel 1971 venne pubblicata la collezione di Roberto Longhi un volume che presenta finalmente tutta la sua collezione una raccolta composta da più di 30 quadri caravaggeschi compresa la seconda versione del bacchino morso della ramaro di Caravaggio mentre il gruppo dei pittori bolognesi a parte Morandi non arriva a 10 opere e questa disparità 30 caravageschi e 10 pittori bolognesi la dice lunga sui gusti di Longhi e tuttavia oltre al disegno che abbiamo già visto prima in rapporto con il quadro della Palla di Cento Longhi possedeva anche altri tre fogli di Guercino quest'angelo a mezza figura questi due angeli a mezza figura e questo paesaggio che Longhi chiamava veduta del Po Santa Chiara che tiene fra le braccia il bambino Gesù un di che si trova nella sua collezione e che Longhi ritiene sia il prototipo di un quadro più piccolo questo di uguale soggetto dell'Ermitage anch'esso attribuito al Guercino quindi vedete questo è quello di Longhi e oltre a citare queste due versioni che conosceva benissimo segnala l'esistenza anche di una terza versione un poco più grande che si trova nel museo di Angers e scrive che tutte e tre le versioni sono coppie da un originale ancora sconosciuto la cui traccia però si trova negli inventari ludovisi del 1623 quindi Mao non accetta nessuno di queste tre dice che sono tutte e tre coppie ecco io vi informo che recentemente di questo quadro Nicola Sterner ne ha pubblicata una quarta versione questa dipinta su rame che si trova in una collezione privata a New York mentre una quinta versione sempre di questo quadro attribuita sempre a Guercino la trovate nella Pinacoteca Manfrediana di Venezia come ho già rinnovato al presidente del centro studi al direttore Lorenzini finché non ci sarà una mostra dove ci saranno affiancate tutte queste repliche presunte coppie non ci si potrà fare un'idea chiara di come lavorava nella casa bottega famiglia di Guercino e quest'ultimo esempio ci ha dato la dimensione della complessità e dell'interesse vasto del pianeta a Guercino e di come le cose non sono mai scontate neanche per gli addetti lavori tuttavia tutti possono sbagliare e quindi anch'io come la maggior parte mi vorrei allineare al metodo scientifico e rigoroso di Mahon anche perché la prosa di Longhi sappiamo rimane comunque inimitabile grazie ringraziamo Fausto Goggi per questo intervento ricchissimo di informazioni e che denota proprio un metodo rigorosissimo è una grande passione e che apre naturalmente una riflessione molto importante sul tema delle repliche e delle copie che in questo momento è veramente sotto la lente dell'attenzione degli studiosi internazionali anche per le ovvie implicazioni e collegamenti con il mercato e concludo la serata ringraziando tutti voi per l'attenzione anticipandovi i prossimi appuntamenti del centro studi perché abbiamo già tre appuntamenti programmati ai quali naturalmente ci farà molto piacere la vostra partecipazione il 20 novembre domenica alle ore 17 una riflessione su un luogo guerciniano non proprio invece direttamente su guercino perché avremo una lettura molto particolare del soffitto ligno di casa provenzali cioè del ciclo appunto di provenco di casa benazzi e incentrata sulla lettura astronomica è una comparazione molto interessante di carattere iconografico con il poetico astronomico di Igino che potrebbe essere stata la fonte per questo sconosciuto pittore o per questo sconosciuto gruppo di pittori che hanno portato però una sapienza astronomica e anche della cultura classica molto significativa in città giovedì primo dicembre invece alle ore diciotto avremo l'occasione per avere la prima presentazione ufficiale del numero monografico della rivista storia dell'arte curato da Barbara Gelfi Raffaella Morselli e Daniele Benati Gelfi e Morselli saranno con noi e sarà anche possibile appunto avere qualche copia di questa straordinaria monografia che riguarda guercino al Casino dell'Aurora Ludovisi del quale abbiamo già parlato come sapete c'è una questione aperta questo capolavoro del guercino legato naturalmente alla vicenda dell'edificio che è in asta è stato studiato ha bisogno di restauri e la rivista oltre a presentare una serie molto ampia di saggi ha delle bellissime immagini quindi anche una bellissima occasione per acquistare eventualmente una strana natalizia tornerà con noi Barbara Gelfi anche mercoledì 7 dicembre la sera alle ore 21 perché faremo un incontro sul tema guercino in video cogliendo l'occasione di un recente passaggio su Sky di un documentario avremo il curatore della serie dei documentari di Sky Paolo Cova che appunto ci presenterà questo ultimo lavoro televisivo proprio presentato credo poco più di dieci giorni fa e anche una riflessione di come la figura del guercino è stata fino a questo momento presentata in televisione riteniamo che sia una bella occasione ma anche un'occasione per riflettere su quanto ancora lavoro c'è da fare perché effettivamente questo è un ambito ancora piuttosto scoperto sul quale però ci sono già dei progetti in atto quindi speriamo di rivedervi e intanto vi auguriamo una buona notte ringraziamo naturalmente Francesco Gonzales e Fausto Gozzi e buona serata ancora Grazie a tutti